Bella a tutti ragazzi e benvenuti a questo nuovo video, io sono FaviJ Oggi è domenica quindi siamo su Happy Mist Quindi raga direi di iniziare subito Facciamo Walking Match Ragazzi non so che livelli sto facendo, non lo so Siamo con... Oddio! Nonno Chuck è in un transformer E questo non me l'aveva detto Cos'è? How to walk? Press space to start Press up e... Ah ok E ditemelo che ne so io Spiega le tue ali! Dove erano... Perché tu non sei vero nonno Chuck Tu menti! Tu menti! Vai! Cos'è? Volato un braccio Oddio! Cos'è? Mi si è infilato nonno Chuck nel pene Cioè! Demoliamo nonni Chuck! Voi siete falsi! Siete tutti falsi! Perché mi si sta smolecolando La barba all'interno? Non lo so Cioè mi sto mangiando dei polmoni Vrestelmania! Va bene Facciamo Vrestelmania allora Con nonno Chuck! Vrestelmania con nonno Chuck Cioè dove... Ma qual è il mio avversario? Non ne ho... Ah c'è quel tizio di sotto Va bene allora ragazzi devo prendere il padre di Yook Culo slam! Cos'è? Devo provare a beccare È tipo Big Show Devo beccare... Dio mio! Ce la posso fare! Oddio santissimo! Gli ho staccato la testa Ed è finita anche nel cestino Fantastico! Bene! Devo fare jungle Jungle deve essere epico Sono sicuro Raga voglio provare a fare un'azione epica Non mi ferma nessuno! Non mi ferma nessuno! Allora aspettate devo fare... Ecco questa Vai! Oh mio Dio! Non ci credo! L'ho presa! No! Barca puttana sono... No sono ancora vivo Ok come non detto Kill your wife! La faccio qui... Cos'è? Can you survive? Steve... Eh... You are! Ok la prendo Cosa devo fare? Devo... Perfetto! Devo ammazzare mia moglie Che c... Oddio sono morto! Perché sono morto io? E' caduto anche Steve alla... Sì ma io devo raggiungere... Ok ragazzi ci provo ad uccidere mia moglie Non so se ci riesco Ho preso Steve! Che cazzo ci fa Steve qui? Eh... Oh mio Dio! Ho dato una culata a qualcuno E quel qualcuno di sicuro non è contento Questo sono sicuro Escape the box! Questo lo fa... No questo lo faccio sicuro Devo riuscire a scappare da qui! Aiuto! Aprite cazzo aprite! Bravi! Ho un vetro bastardi Non c'ho paura di usarlo Ehm... Devo... Devo scendere di qua... Sì! Gra... Sono quasi morto! Ah ma devo scappare da più vetri Fantastico Allora muoviamoci prima che... Oddio! Aiuto! Aiuto! Mio Dio santissimo Mi è arrivato un mattone Sul... Che cazzo! Ragazzi! Aiuto! Aiuto! Fingiti morto! Ok... A quanto pare ha funzionato Fingersi morti! Ragazzi! E' una tattica che funziona! Sì! Mi sono tagliato una gamba alla fine! Ma ho vinto! Ehm... Voi ricordatevi Fingetevi assolutamente morti Nel caso! Cento per cento impossible ragazzi! Dovete scusarmi Che nell'ultimo episodio Non ho fatto l'impossible Con Steve! Neanche in questo Perché non è con Steve! Ragazzi questo è impossibile Che cazzo succede? L'ho preso! L'ho preso! Sì! Grande! Questo è un rope swing! Ehm... Devo... È un dead swing! È un dead swing! Ce la posso fare? Devo aggrapparmi alle gambe di mio padre! Ma che cazzo! Sono caduto! Raga! È imposs... Sì direi... Mio Dio santissimo! Ma come cazzo faccio a fare sto livello? Cioè non si può... Mio Dio! Ma che cazzo! Ma raga! Io continuerò a aggrapparmi a mio padre! Sto livello era impossibile Concedetemelo Non si poteva fare Ma tanto non era con Steve Quindi sono giustificato Ho un pene! Soccer part 2 Cos'è sta roba? Devo... Ah no! Aspettate! Devo prendere... No! Vai cos'è? Se... Grand... Cos'è? Che gol! Devo prendere... Allora... Ragazzi no! Devo farlo assolutamente! Vai! Che gol! Che gol assurdo! La palla è sulla riga ma è entrata Non c'è l'arbitro Devo uscire... Mio Dio Steve! Questo non è fallo! Jump in the box! Cos'è jump in the box ragazzi? Raga devo anche fare un impossible con Steve Perché non... No cazzo! No! Ce l'ho quasi! Devo fare anche un impossible Dicevo con Steve Perché ancora non l'ho fatti Vai Steve! Vai così! Di testa la cosa! Vai così Steve! Vai così Steve! Vai! Ma che... Ho vinto con la testa! Favij impossible al 99% Prova a farlo raga Perché di impossible ancora non l'abbiamo fatti No ragazzi non ce la faremo mai A fare un normale impossible Questo non è un normale impossible Sì! 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 No! Ma che cazzo! Ho vinto col corpo ma non con la mente Va bene allora ragazzi Sì! 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 Un cazzo sì! Ma magari se mi stacco e cado Ma non ci posso credere! Ma che sfiga di merda! Ce la farò raga prima o poi Ce la potrò... Il 99,9% impossibile per Favij Saluti da Ciro Ciro è il mio pizzaiolo Non so se c'entra Però ciao! E... Ce la posso fare? Non ce la faccio Vai Steve! Mi era venuta l'ispirazione di farlo di culo Allora... Sì grande Steve così Facci sognare Steve! Cos'è? Ragazzi devo... No mi è partito il... Lo riprendo! Lo riprendo! Lo riprendo! Come sono morto! Ragazzi ce la posso fare? Sono conciato malissimo Sì ma cos'è sta roba? Ragazzi è un nuovo tipo di ruota La ruota Steve Devo riuscire... Fermo Steve Allora ce la puoi fare senza... No! No! Che cazzo fai Steve? Ti servo... Allora questa è una cosa un po' strana Steve Rattore! Oh cazzo! Questo è un nuovo gioco per bambini Devo riuscire a... Sì! 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 Non ci credo! Non ci credo che cos'era! Oddio! No ragazzi questa è stata una vittoria fantastica E anche oggi L'impossible è stato... Non mi chiedete come l'ho fatto Perché non lo so Cioè ma l'ho fatto anche oggi Ok! Favij sei un dio Grazie mille Favij ce la fai? No ma poi la gente mistica È quello che mi piace Mi piace tantissimo Quando la gente... No cosa c'era Luke? No aspettate mi ha distratto C'è Luke che... Cosa fa Luke? Cioè stavo... No Luke cosa fai? Togliti da cazzo! Ok perfetto Dove devo andare? Non lo so Mi sono aggrappato al... No aspettate Devo riuscire a scendere Sì! Grande! Oddio! Eddi! Non ci credo Non ci credo Sword Trooper Favij Gujiu Fairy Tailor Grande! Vai Favij Uccidi Steve Vinci! Ci sono tutti! No ragazzi Questo è fantastico Ci sono tutti C'è anche un nuovo personaggio La madre di Luke Che non ho mai... Ah sì nel primo episodio di Epic Se l'avevo chiamata Va bene Ce la posso fare! Allora il padre di Luke è andato Eh... Luke... Ma com'è ucciso Luke? No fantastico Devo uccidere Steve... No ma non ci arriverò mai a Steve Sì ma Fairy Tail Tu sei un genio a fare i livelli Ti ho già giocato a due livelli Sei un fenomeno Cioè ma guarda che roba! È fantastico! Eh... Vabbè ho fatto fuori Eddie I fake Nonno Chuck è andato Ma non ce la farò mai a prendere Steve Questa spada A meno che non faccia un tiro Della madonna! Non ce la farò mai però Ho preso nonno Chuck In un modo assurdo Questa è buona No che questa l'ho preso nonno Chuck Ok Manca Steve C'ho 200 spade Ce la potrò fare una volta No Perfetto Non è possibile Non mi devo uccidere da solo Almeno quello Ragazzi ci rinuncio Roller coaster Fabi Jay Ok ci provo Cosa vuol... No è una cosa con i tavoli Cioè devo staccarmi Quando Grande No fan Bello questo Continua la testa Spike for Fabi Jay Questo lo devo fare Questo lo devo fare assolutamente Dov'è? Eccolo questo Le soddisfazioni ragazzi Le soddisfazioni Poi faccio cagare Nei livelli tipo sword Trovo però In questi vinco Senza neanche mettere mano alla tastiera Vabbè raga Ne faccio Io veramente vi giuro Passerei la giornata A giocare i miei livelli Perché sono fantastico Ce ne sono troppi Cos'è Fabi Jay Potato Cioè vabbè Fabi Jay in botto run Fabi Jay in botto run Faccio l'ultima Ehm... Va bene Faccio questa perché mi sfira Devo farla col padre di Luke Per forza Vai ragazzi Ce la posso fare Il mio botto run Fantastico Ho vinto Mi dicono Ce la posso fare raga Non è impossibile Non è impossibile Qualcuno avrà vinto E vincerò con nonno Chuck Con nonno Chuck Vai nonno Ok no Aspettate che devo girare i razzi Così tipo No 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 Sì nonno Sì nonno Sì nonno Sì nonno I livelli Ragazzi per questo episodio La chiudo qui Se il video vi è piaciuto Lasciate un commento Mi piace Anche la pagina di Facebook E come in ogni video Trovate nella descrizione Se non siete ancora iscritti Iscrivetevi Noi ci rivediamo All'un prossimo video Bella ragazzi Grazie a tutti